la dopo una mattinata di intenso travaglio finalmente un pesce in canna che è uno di cinque pesci da ricordare vediamo c'è il robertino che sta un attimo cercando di fare il punto della situazione il pesce ha mangiato sul fondo è un pesce molto grosso come potete vedere insomma adesso vediamo un po abbiamo atteso tanto insomma l'abbiamo cercato abbastanza questo pesce speriamo che tutto regga e che il fondo ci stia lontano come disse sto uscendo non posso andare da nessuna parte stiamo staccando un pochettino per restare tranquilli ha preso molto fila all'inizio e quindi niente vediamo un attimo di di agevolarti il compito no però devi andare verso destra le robe praticamente verso destra sono fronte mare capito ci fermiamo completamente allora abbiamo avuto un po di casino nel senso che le canne ovviamente si sono incrociate e adesso però insomma stiamo di nuovo un po di posizionato ovviamente il pesce ancora qui è stato un po di mai il terminale dentro aspetta che accettere un po' che è troppo a picco devo cambiare la verticale non mi piaceva troppo troppo in verticale non te lo porti di là, te lo porto sempre di qua, non ti preoccupare, tu stati al centro della bacca non c'è andare tu, io te lo porto di qua se ne rompo lì se ne va a picco per ora, non lo possiamo rischiare di rompere sul fondo non è che c'è tanto, per ora lui è a 10 minuti al fondo giù, stai caldo non è il momento di forzarlo però dobbiamo un po' forzarlo non è il momento di farlo non è capito non è un senso Grazie a tutti. 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 Fortemente voluta. Fortemente voluta. Dai. Vi ho fatto sbagliare sta canna. Ora per cortesia. Abbiamo trasmesso. Cioè praticamente... Allora ragazzi è partita nuovamente la canna della giornata. La 12, la 12, nuova, battesimo. Sto testando anch'io, una bella canna. Siamo ripassati nella zona dove avevamo avuto lo strike della ricciola precedente ed è partita nuovamente la canna sempre a fondo. Sto stranamente era un po' per cuore. Guardate che bello, guardate che bel pesce. Un bellissimo, veramente bellissimo pesce. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, lo ha al silenzio. Non ti preoccupare. La signora si dimentica, stai buonina stai, stai buonina stai, stai buonina stai. Alla prossima, una bella pescata.